Default, una residenza internazionale culturale e artistica, arte, città e rigenerazione, quali sono gli obiettivi? Gli obiettivi sono cercare di dare un profilo internazionale al nostro territorio, ancora di più agli artisti selezionati per partecipare a questa Masterclass in Residence. Sono dieci giorni, venti artisti, dieci internazionali, dieci italiani, sette pugliesi e tre da fuori regione. Sono qui a lavorare intensamente da mattina a sera su questi temi. Il nostro obiettivo è proprio quello di cercare di dare loro le competenze e le skills, diciamo in inglese, per affrontare al meglio questo tema e quindi utilizzare al meglio le competenze maturate per poi progettare qualcosa sul territorio e con il territorio. Sono dieci giorni, dal 20 al 30 settembre, di attività riservate agli artisti selezionati, in cui avremo numerosi ospiti internazionali, che vanno da Luis Biggs, direttore della Biennale Liverpool, a Julia Draganovic, curatrice di Arte Fiera Bologna, è responsabile di No Longer Empty, una struttura new yorkese, che si occupa proprio di performance artistica in spazi abbandonati, ma ancora AGM con Alfredo Cramerotti e Anna Connery, due curatori che si occupano della parte curatoriale della nostra residenza e numerosi altri ospiti. Un programma di giorno riservato alle persone selezionate, di sera invece apriamo le porte, ci sarà il 22 un panel sull'arte pubblica in collaborazione con Art Lab presso Liberrima, ci sarà il 24 la festa di chiusura di Art Lab, è la festa nostra del progetto default, il cosiddetto D-Day l'abbiamo chiamato, presso Archiviazioni, questo spazio sulla Lecce San Pietro in Lama, molto interessante anche questo, uno spazio riqualificato, una vecchia manifattura e il 30 una mostra sempre in collaborazione con Archiviazioni, con Pietro Gagliano che ci farà vedere il suo progetto The Wall e condividerà, arricchirà questo progetto, che è un progetto in itinere con le esperienze dei nostri artisti. Però siamo qui disponibili, possiamo aprire le porte agli interessati, per cui siamo ben felici di accogliere chi è curioso di sapere che cosa accade e come gli artisti si stanno approcciando a questo tema. È importante la riqualificazione degli spazi urbani e dell'arte pubblica, credo che sia una delle poche prime esperienze, non solo in Puglia ma anche in Italia, di questo genere. Gli artisti che abbiamo selezionato ce lo confermavano, non ci sono grandi opportunità per completare o per sviluppare, andare a fondo di un percorso artistico. Noi grazie al supporto della Regione Puglia e di Principi Attivi siamo riusciti a dar vita a questa idea che avevamo e con l'associazione Random neocostituita stiamo cercando di portarla avanti al meglio e ovviamente dopo default speriamo di poter andare avanti con una seconda edizione e con degli altri progetti su questi temi e sull'ambito culturale e artistico. Vedremo come risponderà la città a questa iniziativa. Sì, siamo curiosi, vedremo come risponderà la città, come rispondono le istituzioni che per il momento ci hanno dato un grosso supporto, oltre alla Regione Puglia, il Comune di Lecce ci ha supportato in diversi modi, dando l'ospitalità agli artisti presso l'ostello della gioventù, mettendo a disposizione i servizi ad hoc per gli artisti per muoversi, anche aggiuntivi con la società SGM. Quindi il supporto per adesso c'è stato, però c'è bisogno di continuità e c'è bisogno di lavorare in maniera un po' più programmata e strutturata su queste tematiche. Vorremmo che si uscisse un po' dall'estemporaneità di questi eventi o di una programmazione di questo genere, per poter intervenire con le istituzioni e cercare di capire quali possono essere i punti di contatto tra le istituzioni e le organizzazioni che lavorano in un ambito culturale e artistico per portare avanti una programmazione di questo genere in maniera più strutturata e soprattutto duratura.